Un lavoretto solo, io ti estingo il debito e da questa casa esce un uomo libero. Non c'è problema. Arriva dall'altra parte del mondo, per portare a termine l'ultima missione. Sto cercando un uomo, si chiama Travis Walzer, ha la faccia da faina. Ci conosciamo? Ti riporto a casa, Travis. E chi c'è a casa? Tuo padre. Magari fosse così semplice. A quanto pare ha inciampato in un oggetto assai prezioso nella mia giungla. E io lo rivolgo. Wow! Qualunque cifra ti dia mio padre, io te la raddoppio. No, carino. Ti piacciono le cascate? Vuole le cascate. Vai, muoviti. Occhio, bello. Sembra proprio un uccellino, la succa. E chiedi quello boccaccio. Ma perché mi prendi sempre un cazzo? Dobbiamo arrivare a quell'albero, ci sono... Ecco fatto. Ma che sto facendo? Ti spiega chi è che comanda. Trovateli. Non voglio fare a botte con te. Va bene, Pop, come vuoi. Li feneri, sono piccoli. Questi fanno sul serio. Ammazzate le vacche. Il tesoro dell'Amazzonia. Ti sai muovere. Su questo non ci piove. Cavolo.